Ciao amici, come state? Spero tutto bene. Oggi ritorniamo su Schoolboy Runaway, quel gioco dove noi dobbiamo scappare di casa perché i nostri genitori sono molto cattivi, ci hanno messo in punizioni fin troppo severe. Oggi siamo qua per provare a vedere cosa riusciamo a fare, no? Per vedere se riusciamo a scappare. Mi metti che sventate di riportarlo, mi fa veramente piacere che questo gioco vi sta piacendo. Quindi lasciate qui sotto tantissimi like se volete vedere una serie completa e se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale con la campanella attiva. Ci tenevo a ringraziare, benedetto Diego per aver fatto l'adorazione al canale, ti ringrazio veramente per il grande supporto. Ma adesso direi di partire, cominciamo, addentriamoci all'interno di questo gioco. Ah, no vabbè guardate, posso scegliere tipo se mettere notte o giorno, ma stavolta direi di mettere notte, così diventa ancora più horror. Quindi, ah, qui possiamo scegliere pure la difficoltà. Ma che l'hanno giunta adesso ste robe? Io non mi ricordavo nel video scorso che ci fossero. Ma se mettiamo normale e si parte, si comincia, vai! Il bambino che torna a casa in piena notte! Beh cos'è ancora più horror? È più bello, no? Ok, vediamo se il filmato cambia, se c'è qualche differenza. Andrei, vieni qua! Chi è che mi sta chiamando? Ah, mamma mamma, posso uscire fuori? Il mio amico è qui! Andrei, hai finito tutti quanti i tuoi compiti? Sì, li ho fatti! Ok, portami il tuo diario. Ah, mi sa che il filmato è sempre lo stesso, però ambientato di notte. Però effettivamente non vorrei dire, però perché questo deve uscire in piena notte? Solo che il bambino, niente, ha preso una nota e ha preso pure un'insufficienza. Quindi la madre giustamente diceva, ma perché vuoi uscire fuori? Vai subito a casa! A studiare! Ciao, non ti vergogni! Niente, che poi non è che gli ha detto vai a casa, ma vabbè, niente. È finita così, ci ritroviamo qua a dover studiare stavolta, però di notte, con le luci spente. Però dico io, caro amichetto, accendile quelle luci. Si vede niente, cioè come fa a studiare? Ci diventa cieco studiare in quel modo. Vabbè, dai. Direi che possiamo andare subito in partita e vediamo cosa riusciamo a fare. Allora, come potete ben vedere, il bambino sta studiando, però non è che ha tutta sta voglia di studiare. Cioè, lui vuole uscire fuori per dare una bella lezione ai genitori. Ma come gliela diamo sta bella lezione? Allora, io avrei qualche piano. Voglio provare a vedere effettivamente se riusciamo a scappare questa volta dalla finestra della cucina. E vediamo cosa si riesce a fare. Perché se noi andiamo di qua, io faccio vedere. Apri qua, perfetto. Ciao mamma, tutto bene? Lì c'è una finestra e io effettivamente potrei scappare se lei non mi vede. L'unico modo per farlo, ovviamente, è quello di suonare il campanello e poi nascondermi. Vediamo cosa riusciamo a fare, va? Apri questa porta così almeno posso nascondermi. Dlindlon! Via, 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 scappa, scappa, scappa. E adesso dobbiamo stare molto attenti. Dobbiamo essere soprattutto in tempo. Ecco, giusti con i tempi. Perché mamma adesso vado ad aprire la porta. L'avrà già aperta? Penso di sì. Via, 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 via. Ok, scappa. Su, perfetto. Chiudi subito. No, non posso chiudere la finestra mentre sono fuori. Mamma mia, mamma mia. Però guardate, siamo riusciti a scappare. Eh, ce l'abbiamo fatta. No! Cosa? Aiuto! Forse la mamma mi ha beccato. Eh, c'è una scopa. Posso raccogliere la scopa? Dove sta andando la mamma? Cosa? Aspettate, forse qualcuno mi ha visto. No, no, no! Via! C'è il papà. Mi sta inseguendo il papà. Scappa, 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 veloce, veloce. Dai, e salta su sta recinzione. No! Ah, devo fare 20 squat per punizione. La mamma mi faceva pulire il giardino, mi faceva fare quello, pulire la cucina. Lui invece mi fa fare gli squat. Vabbè, però basta il problema che qua c'è sto volume della partita. Non finisce mai questa partita. Ogni volta che vengo a giocare qua c'è sempre la partita. Vabbè. Uno, due, sì, dai, due, tre, quattro. Ah, no, ma guardate. Cioè, devo per forza continuare. Cioè, almeno devo aspettare che lui finisca di parlare. Se no non mi favo andare avanti. Dai, ma ero riuscito a scappare. Ma dai. Ma ce l'avevo quasi fatta. Ok, siamo a dodici, tredici, quattordici, quindici. Tredici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove. Oh, e preferivo andare a pulire a sto punto. Era più divertente. Qua devo soltanto premere un pulsante. E che roba. Adesso sto libro glielo tiro in faccia. Non potevo prendere la scopa che stava lì fuori. Così la tiravo in testa alla madre e al padre. No, eh. Non lo potevo fare. Ma troverò il modo per scappare da sto posto. È difficile perché effettivamente io scappo fuori dalla finestra. Però la finestra è aperta. Quindi la mamma si accorge che effettivamente io sono scappato da lì. E questo lo rende ancora più difficile. Eh, vabbè, ma devo trovare un piano. Devo trovare qualcosa da fare. Quindi apriamo questa porta. Tanto comunque noi sappiamo che il padre e la madre resteranno comunque sempre fermi. Non si muovono, meno che io non li attiri in qualche modo. Quindi cerchiamo un po' di muoverci di qua. Perfetto, chiudi la porta. Sono in bagno, cari genitori. Un bagno troppo buio. Cioè, non posso accendere la luce da qualche parte. Non c'è un interruttore. Un niente. Però, aspettate, io qui fuori ho visto degli interruttori. Posso accendere qua? Ah, sì, almeno così posso vedere, no? Esploriamo questo bagno. Vediamo se c'è qualcosa di utile. Carta igienica. Ho raccolto un bulbo di luce. Non so cosa mi possa servire, ma va bene. Qui posso prendere qualcosina, no? Qui c'è la vasca. Forse c'è qualcosa nella vasca che mi può servire. Non so, uno shampoo. Neanche quello. Su, esci, esci. Ah, per paura. Non ci credo! Ah, ok, perfetto. Pensavo di essere rimasto bloccato, perché non riuscivo ad uscire. Qui nel gabinetto c'è qualcosa. Ma che schifo, ma che puzza. Ma pulite li sti gabinetti. Ma dai! E qui invece cosa c'è? Ah, guardate, posso aprirlo con un cacciavite. Però io effettivamente adesso non ho un cacciavite, quindi dove vado a prenderlo. Carta igienica, posso fare qualcosa, no? Qui si può chiudere e aprire, ma niente di importante. Ah, ho preso qua. Ho sentito un rumore. E soprattutto il padre ha detto vado a vedere chi mi ha scritto. Ah, ho capito, perché nella camera del padre probabilmente si trova anche il telefono. Quindi lui potrebbe alzarsi per andare a controllare. Forse, non lo so. Io nel dubbio esco di qua. Tanto non c'è nessuno qui intorno, quindi posso muovermi. Perfetto. Spegni questa luce. Di qua posso vedere cosa c'è. Buonasera amichetti, genitori cari. Mamma mia, mamma mia. Avete visto? Per poco ho aperto proprio la porta quando il padre stava uscendo dalla stanza. Ok. Tanto lui è concentrato qui a guardare la partita, quindi io posso entrare tranquillamente. Lui non si accorge di nulla. Chiudi questa porta. Posso accendere la luce? C'è sì, perfetto. Niente, qua è bloccato. Qui dentro c'è qualcosa di utile? No. Ah. Uh, ho preso... Non so, qualcosa. Un qualcosa l'ho preso. Posso utilizzarlo forse per... Uh, qui c'è una cassaforte. Chiudi qua. Vediamo se posso usare questa roba per la cassaforte. Ah, no. Eh, no, non la so, la password. Che cosa devo mettere qua? Blu, white. Non so cosa io debba fare. Cosa devo fare qua? Non ne ho idea. Come si esce? Ok, chiudi. Chiudi anche... No, no, chiudi anche qua. Questa parte di armadio. Qui c'è qualcosa. Niente di utile. Perfetto. Qui dentro. Ok. Nulla di interessante. C'è un PC che però non so come... Usare. Ok. Io ho un'ansia a giocare a sto gioco. Non potete immaginare. Posso prendere il telefono del padre? No. Prendo la bottiglia? No, non posso far neanche quello. Apri qua. Chiudi. Andiamocene subito. Via, 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 via. Mamma mia, mamma mia. Ok, io adesso... Io provo ad aprire la porta usando questo. Niente, non si può usare. Non posso usare sta roba. Posso usarlo forse qua dentro per aprire di qua? No che non posso usarlo. Invece se vado di qua... Chiudiamo. Ok. Io però ho paura. Mi sa che la madre mi vede. Mi vede se provo a far qualcosa. No! Ma dai! Ma che roba! Ma pure sto bambino che si mette a parlare. Che è lì con la madre. Ma allora, vediamo. Devo pulire. Ecco, questa parte qua è più divertente che farmi... Lì gli scuoto con il padre. Perché lì devo soltanto premere un pulsante. Qua almeno mi muovo. Cerco anche un po' di spezionare la stanza per vedere cosa c'è. Ok. E sì, cara madre, che adesso faccio tutto. Non stare qui a parlare, a chiacchierare. Siamo veramente... Questo te lo lancio in testa proprio. Posso aprire quei cassetti? Non posso fare niente. Qua c'è la cucina. Ma quanto sta cucinando per sta madre? Non finisce più di cucinare. Ad ogni episodio che vengo qua, sempre che cucina. Sarà forse una cuoca? E chi lo sa. Ok, però qui c'è un telecomando. Quindi io forse posso provare a raccogliere quel telecomando. E posso utilizzarlo per spegnere la televisione. Non lo so. Proviamoci. Quindi andiamo qua. Perfetto. Apri questa porta. Chiudiamo. Stavolta però facciamo molta attenzione. Ok? Non posso avvicinarmi troppo perché la madre mi vede a quanto pare. Raccolgo il telecomando. Eh no, non posso prenderlo. No! Ma che roba! Via, via, via! Voglio vedere tanto ormai. Non potevo fare altro. È perché tanto mi vedo. Una volta che il genitore mi vede, io non ho più modo di separarmi da loro, di seminarli. Va bene, dai, questa quella è difficoltà normale. Vediamo. Fatemi sapere qui sotto i commenti se volete vedere un terzo episodio dove stavolta finalmente proveremo a scappare da questa casa come si deve. Spero che questo vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto il racconto, spalicciate così vi direte. Iscrivete il canale con la campanella attiva. Vi ci vediamo il prossimo video e come sempre vi auguro buona giornata. Grazie a tutti e buon panino a tutti.